Nessun gol fra Agnonese e Castelfidardo, un pareggio che serve poco ad entrambe le squadre rispettivamente penultima ed ultima del Gironef. Quella di Foglia Manzillo offre una prestazione molto opaca, si lasciano apprezzare i marchigiani venuti in Molise senza una guida tecnica a causa della rinuncia. Nelle ultime ore alla panchina da parte di Colavitto, gara giocata di fronte a circa 130 spettatori di cui una manciata dalle marche e diretta dal signor Robilotta di Sala Consilina. Al tredicesimo porta palla Petrarulo del Castelfidardo, si defila prima di trovare sulla propria strada la deviazione di Cassese in angolo. Risposta locale al sedicesimo quando Ancora offre per Ribeiro che si fa rispingere il tiro dal portiere ospite e riprende Formuso che calcia sull'esterno della rete. Quasi al diciottesimo discesa di Severini in aria, palla al centro pericolosa non toccata da alcun Fidardense. Al ventesimo angolo di Ricciardi stacca Cassese conclusione sbilenca di Salim Ribeiro in area di rigore. Alla mezz'ora si fa male Araldo e chiede il cambio. Foglia Manzillo è costretto a far entrare il classe 2000 Barbato. Al quarantaduesimo angolo ospite calciato da Calabrese svirgola Albanese rischiando così l'autogol. L'agnonese fatica a cucire i reparti. Il Castelfidardo gioca la gara della vita con molto coraggio e senza contenere più di tanto. Finisce senza gol la prima frazione dopo tre minuti di recupero. Marchigiani che si lasciano preferire ad inizio secondo tempo. Prima al secondo c'è la girata di Severini alta. Poi dopo solo un minuto è Calabrese a caricare il tiro ma a non trovare la porta. Agnone che protesta al settimo quando Enou interviene in area. Rude su Bisceglia si può giocare per il signor Robilotta. Foglia Manzillo decide altre due sostituzioni. Nel giro di qualche minuto fuori Formuso e Ribeiro dentro De Zai e Niang. La girandola non si esaurisce qui perché il tecnico napoletano butta nella mischia anche Mazzarani al posto di Gentile. Nel giro di cinque minuti Foglia Manzillo prova a dare un nuovo volto all'Olimpia Agnonese. I Granata calciano molto poco verso i pali del Castelfidardo. Al ventiquattresimo il portiere Granata Maraolo è chiamato ad un superintervento su conclusione ben indirizzata di Calabrese. Foglia Manzillo chiama in causa anche Litterio al posto di un anonimo Ricciardi. I marchigiani non soffrono la manovra Granata di contro. Gli altomolisani iniziano ad allungarsi sensibilmente. Il finale vengono comandati cinque minuti di recupero e tutto appannaggio del Castelfidardo che va vicino al golo al novantesimo con Lombardo che infila per Calabrese. Il suo è un tiro cross che per poco non trova la deviazione di Severini a due passi dalla rete. Ancora ospiti sugli scudi dopo un altro minuto quando in area c'è il contatto fra Dercole e Bisceglia. Il fischietto salernitano facendo di riprendere semplicemente con un calcio d'angolo per il Castello. A fine gara si registra lo sfogo di Foglia Manzillo che lamenta i continui spostamenti a cui la squadra è costretta per indisponibilità perdurante del nuovo sintetico di Agnone. Lo stesso tecnico dirà che a queste condizioni salvarsi sarà davvero una specie di miracolo. Agnone impegnata mercoledì nel recupero di Giulianova mentre il Castelfidardo si augura di continuare a fare punti ma anche di avere in settimana un nuovo allenatore.